Grazie a tutti. La registrazione è estremamente impegnativa, ancora molti colleghi sono in segreteria, comunque per non perdere altra parte della giornata iniziamo. L'inizio della giornata prevede il saluto dell'autorità, manca il Rettore che è impegnato in un altro convegno universitario sulla valutazione della qualità all'interno dell'Università e si scusa di non poter intervenire, causa concomitanza di impegno. Quindi l'altra autorità che abbiamo correttamente e giustamente, secondo me in maniera precise e puntuale, chiamato a intervenire, vista la tematica, è il Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Modena, Nicolino Dautilia, a cui do la parola per un saluto di auguri e di presentazione della giornata. Buongiorno a tutti. Come è mia abitudine non vi ruberò molto tempo. Sono particolarmente lieto di essere presente a questo convegno che va nel filone di un'attenzione particolare ai temi della sicurezza del paziente e del comportamento dei medici e quindi delle strutture dove i medici operano rispetto a questo problema. La Federazione degli Ordini questa estate, tarda primavera, prima estate, ha già organizzato un convegno simile a Cagliari dove sono intervenuti i massimi esperti sia del Ministero della Salute che di altre associazioni e per puntualizzare alcuni aspetti di questo che è un tema enorme, un tema grandissimo e che investe molte professionalità, ovviamente i medici ma tutto il tema delle figure professionali dall'infermiera ai nuovi profili che afferiscono al sistema sanità sono impegnate a garantire la massima sicurezza del paziente. È un tema molto sentito che dobbiamo cominciare a togliere dal sistema dei mass media quando il caso particolare diventa mala sanità. Ormai è un'abitudine, c'è chi si è attrezzato con la costituzione di associazioni, ne cito una per tutte, amami, con risultati a volte positivi, a volte discutibili naturalmente parlo sul versante medico, c'è chi ha ritenuto di approfondire il tema creando delle condizioni perché si riduca all'origine, alla fonte la percentuale di eventuali contenziosi. Io credo che questa sia la strada migliore, ciò non eviterà naturalmente ma questo perché siamo uomini e quindi fallaci il crearsi comunque di contenziosi. La riduzione il massimo possibile di questi eventi deve essere un obiettivo perseguibile e in cima ai pensieri di tutte le aziende sanitarie e dei professionisti. Come ordine dei medici di Modena abbiamo sensibilizzato molto i colleghi su questo. Nella primavera dell'anno prossimo insieme alla Federazione Nazionale degli Ordini e ad alcune delegazioni estere organizzeremo a Modena un convegno sul rischio clinico e sulle valutazioni che vengono fatte in questo ambito anche su un versante un po' più ampio di quello italiano perché c'è bisogno anche di confrontarsi su queste tematiche. Quindi vedremo anche i paesi europei, Francia, Spagna, Inghilterra o meno, come affrontano il problema perché credo che il confronto fra le varie esperienze possa essere molto utile. Io termino qui, vi ringrazio per l'invito e vi auguro buon lavoro.